L'ex stir di Battipaglia a giorni potrebbe accogliere i rifiuti provenienti dai comuni del Sannio. A comunicarlo Fabio Solano, amministratore unico della Samte, società partecipata dalla provincia di Benevento, che ha annunciato la disponibilità di ecoambiente a ricevere parte dei rifiuti indifferenziati provenienti dal Sannio, a seguito dell'emergenza allo stir di Casalduni. Spetta ai comuni, ha sottolineato Solano, valutare tale ulteriore opzione per i conferimenti. Samte, contestualmente, ha informato i 78 comuni sanniti e la prefettura di Benevento della disponibilità di ecoambiente, società che gestisce lo stir. Il vicepresidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola, intanto ha ridimensionato lo scenario emergenziale prospettato dopo la rottura delle Alinea 2 presso l'inceneditore di Acerra, annunciando la riapertura della stessa entro i primi giorni della prossima settimana.